Udite, udite, popolo di Lucca e forestieri nella nostra città, domenica, nello sesto di e nello mese di giugno dello anno di nostro signore duemillesimo vigesimo primo, allo scoccare della sedicesima ora al campo Tiri della Repubblica di Lucca, posto in via Pantana a Ponte Tetto, si disputi con le palestre grandi da banco lo terzo palio delle contrade dello Santo Paolino, tra i gonfaloni di Cuna, Serena, Granchio e Faicone, venite ad assistere per la magnificenza di Lucca, per l'onore e la gloria dello nostro Santo Paolino. Grazie 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 Grazie